Gianni Potti, founder di Digital Meat, secondo lei in quali settori le start-up sanno più cercate nei prossimi anni? Ma questa non è una risposta facile, provo a azzardare, poi verifichiamo fra qualche tempo. Credo il mondo della salute sia molto interessante in termini, temi delle biotecnologie da un lato e dall'altro direi la logistica perché avremmo solo bisogno di logistica per merci e persone.